Al di là dei decimali noi avevamo già da tempo detto che quest'anno il debito il debito quest'anno sarebbe aumentato e l'anno prossimo comincerà a scendere. Quindi stiamo parlando dello stesso profilo di aggiustamento del debito e aggiungo che visto il surplus primario che andrà aumentando, visto la crescita che andrà aumentando e visto il costo del debito che è in diminuzione come tutti sappiamo tutte queste cose aritmeticamente indicano che il debito scenderà forse più rapidamente di quanto pensiamo. Inoltre ci sarà il contributo positivo delle privatizzazioni.